Non gli funzionava lo smartphone con gestore postemobile e pretendeva dagli addetti dell'ufficio postale di Viale Roma la riparazione del telefono o la consegna di uno nuovo. A nulla è valsa la spiegazione degli addetti allo sportello che per quel tipo di problematica avrebbe dovuto rivolgersi ad un centro di telefonia. L'uomo di origine straniera non ha voluto sentire ragioni e l'atteggiamento sempre più insistente e verbalmente aggressivo ha richiesto l'intervento della polizia. I poliziotti l'hanno accompagnato all'esterno dell'ufficio ma l'uomo improvvisamente si è scagliato contro l'ingresso minacciando di entrare nuovamente per sistemare la questione impattando in tal modo contro i poliziotti che cercavano di contenerlo. Portato in questura è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.